Ciao 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 amiche sono qui per fare un mega tutorial yeah super fighissimo ed è sarà del tucco alla andiamo via che è tardi ragazze è tardissimo guardate che bel facciotto che ho allora velocissimi con la base fra tre minuti due minuti devo essere in macchina andiamo via che è tardi andiamo via famosa spreca oddio che sta a passare allora velocissimo col col metto direttamente questo questo si fa con la andiamo via che è tardi senza base senza niente me devo da sbrigà allora velociter tic 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 questo bel faccione bianco vi sconsiglio assolutamente di riprovare a fare questo trucco perché sicuramente verrete fuori la fedenzia come sarò io trucco fedenzia l'andiamo via che è tardi penso che poche persone abbiano abbiano questa dote di questo bellissimo trucco e fanno questi bellissimi tutorial come me eccezionali dove vi si fa vedere come truccarsi in due minuti ed essere peggio di quando non avevate il trucco allora ragazze ecco questa base fatta una passata di cipria e che te lo dico a fa facevo sempre così quando ancora non seguivo poi pennellin pennellon mi metto un po' di fardon di blachon velocissimo presto 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 che tardi devo andare a lavorare aiaiai ai 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 il sorrido č che hai un po' di mo' o inchi haidi ahidi le capprette ti fanno benzina Ci picchia Mi metto pure le lenti a contatto Non ve spaventate Tutto il romanaccio Mi tocca fa Ma guarda qua Parapapapa 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 Hola Heidi 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 Ecco qua Due minuti sono già passati Fammi pettinare questa frangetta orienda Ok So benissimo 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 Allora Della serie non me ne può fregarvi meno Quando vado a lavorare Poi oggi pomeriggio mi faccio un bel trucchettino Voglio fare un bel video Allora un po' di primer al volo Della marca Manetta Anche voi comunque non avete Ma non è granché Meglio quello della Pezfai Ce n'ho due Devo dire quello della Pezfai è meglio E costa cura di meno ragazze mie Belle e care Vado adesso Bu Guardate che capelli da Della serie sputtanano Se fino a dire basta È successo Mi sei spostata la lenta a contatto Mi sa di sì Allora Poi Ombrettino ed ombrettone Me lo mangio a colazione Na 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 Muovia Che è tardi Bisogna sbrigarsi Perché Lars è già lì Che mi aspetta A dire la verità Io oggi insegno Alla terza ora Però Devo portare anche Lars Che stava nella stessa scuola Dove Dove Sono anch'io Allora, matita per le labbra Allora Ok Non sto vedendo se Dove la lente? Ok, la lente c'è Adesso Questo no Mi servirebbe una matita nera Questa no E dove sta la matita nera? Ragazze, c'ho un caos Questa è viola Questa Caos, caos, caos Andiamo via che è tardi Andiamo via che è tardi Non ci pensiamo più Madonna mia, sono già in ritardo 7.33 Già 3 minuti di ritardo E voilà Le je son fait Eccomi, quanto sto bene ragazze Guardate, un trucco vi consiglio assolutamente Di non rifarlo Per nessuna cosa al mondo Nemmeno in caso di necessità Rosettin della Catrice Madonna mia ragazzi Rosettin della Catrice Adesso mi serve un mascara che non trovo Adesso mi serve un mascara che non trovo Dove sta? C'ho il manga celeste che fa schifo anche ai topi ai ratti Questo colore che ho preso Questo è buono Anche se è quasi finito Eccolo, è stupendo questo Voglio fare una recensione su questo qui Della Ecco fatto ragazzi mie Oh come sto bene Che bel trucchetto Che bel trucchettino Wow Allora Tocco di classe al menù C'era una volta la pubblicità Da un tocco di classe al menù Un pochino di Poi devo correre con una lepre Con una lepre amarfitana Qua Non una capretta tibetana Ascolana Ecco Malte piange Chissà cosa gli hanno fatto Mio marito lo deve portare all'asilo Io Malte Ecco fatto Ciao Dopo questo super figo Andiamo via che è tardi Vi saluto Correte sul giveaway Se ancora non l'avete fatto E Alla prossima amiche Ciao Andiamo via che è tardi Andiamo via